Benvenuti, benvenuti cari amici, siamo BTQ su un nuovo video Naturalmente, come sempre ricordo, di suggerire il like, di iscrivervi il canale, iscrivervi anche nell'internagram Oggi andiamo a parlare di Crypto All Stars, questa meme coin che ha come obiettivo Quello di andare a riunire tutti i principali meme sotto un unico staking Una cosa di questo tipo non l'abbiamo mai vista all'interno del mondo cripto E per cui iniziamo subito Ed eccoci qui ragazzi, per cui andiamo a dare questo progetto Crypto All Stars Progetto che ragazzi vuole dar vita letteralmente a un meme volt Che cos'è il meme volt? Praticamente la raccolta di tutti i meme e dare un API unico Quindi sarà un progetto letteralmente unico nel suo genere Ovviamente, come sempre, vi ricordo che non sono né consigli finanziari né consigli di trading Però potenzialmente sarà un progetto letteralmente unico Per cui andremo a vedere il tutto Vi ricordo che finora Crypto All Stars ha raccolto 1.5 milioni di dollari E vi ricordo che il prossimo round l'avremo quando verranno raccolti 1.7 milioni di dollari Al momento, come vedete, il prezzo di un Crypto All Stars è pari a 0.0014593 dollari Quindi insomma un prezzo direi super abbordabile Vi ricordo che se volete acquistare Crypto All Stars Io vi lascio come sempre sotto il link in descrizione Così insomma siete sicuri letteralmente di non incorrere in scam E di andare ad acquistare il Crypto All Stars originale Perché come ben sapete su questi progetti, su queste pre-sale Girano sempre tantissimi scam e non solo sui pre-sale Quindi potete acquistarlo o attraverso Tether, quindi USDT O attraverso carta oppure attraverso Ethereum Semplicemente collegando il vostro Metamask Ora andiamo a vedere un po' quello che sarà il fulcro del progetto Quindi come abbiamo già detto Un unico meme Volt Ovviamente questo potrebbe implicare di grossi rendimenti per quanto riguarda lo staking Andremo poi a vedere lo staking Anche se come sapete io non sono un grande fattore lo staking Però il loro obiettivo è quello di raccogliere più meme Come vedete qui c'è Turbo, c'è Mogcoin, c'è Ladies, c'è Toshi C'è un bel Shiba Inu, un bel Pompato, un bel Doge E vogliono andarle a raccogliere sotto letteralmente un'unica alea Quindi sotto un unico staking Mai nessun exchange, mai nessun progetto ha fatto un qualcosa di simile Quindi potrebbe essere un qualcosa di letteralmente rivoluzionario Questo diciamo il fulcro del progetto Poi la roadmap prima fase sarà quella della prevendita All'interno della quale ovviamente è fase che stiamo vivendo Quindi raccolta letterale di USDT Tether Nei quali è possibile già acquistare il token Successivamente lancio del token All Stars Quindi poi si aspettano ovviamente loro un'impennata del token Bisognerà vedere se sarà così E poi infine sblocca il cavo Cioè voi avrete messo in staking Ok tutti i vari meme Riceverete un'unica API E in teoria potreste insomma fare dei big gain Anche perché guardate qui sotto Al momento lo stake è pari al 947% Quindi davvero tanto Ovviamente vi ricordo Che non sono né così finanziare né così trading E quando ci sono degli staking così alti Quale potenzialmente può essere il pericolo da pagare? Esatto Anche la perdita di tutto Perché se il progetto non riuscirà a ripagare tutti Oppure tutti in quel momento andranno a ritirare Potrebbe letteralmente scoprire tutto Questo sia chiaro perché è giusto Però se è il contrario Invece ci sarà tanta domanda Si riuscirà a pagare tutti E quindi in conseguenza il progetto andrà a sopravvivere Ovviamente se poi le coin andranno a scadrocchettare Tutto sarà sostenibile in bull Bisognerà poi vedere in vara Quindi io la vedo per la più notica speculativa Ok in tal caso In tal caso sottolineiamo questo progetto Dopodiché andiamo a vedere la tokenomics Perché sarà così ripartita 20% per quanto riguarda le prevendita 25% per quanto riguarda lo staking Ok in prevendita 20% per quanto riguarda il marketing 10% per quanto riguarda checks e dex E infine un 25% per quanto riguarda l'ecosistema di meme volt Poi qui vi ricordano come è possibile acquistare Ok letteralmente La coin Semplicissimo ve l'ho già mostrato prima E dopodiché volevo mostrarvi anche quello che è il loro twitter Ok quello qua al momento conta 16.600 followers Ok che non sono affatto pochi E vedete che qui le interazioni ci sono Guardate qui questo è stato un primo post Ok del 10 agosto Dove praticamente si andava a dire che la live La presale è live E ci sono stati 205 like Quindi non pochi Questo pensate è un tweet di 55 minuti fa Dove addirittura i like sono 88 Quindi insomma stanno Stanno facendo bene Stanno creando una bella community E vediamo ok dove potenzialmente questo progetto potrebbe letteralmente arrivare Dopodiché ti ricordo anche quello che il loro gruppo telegram Se vuoi maggiormente indagare Capire anche fare le relazioni All'interno diciamo del mondo cripto E dopodiché volevo mostrarvi questa cosa qua Che secondo me è interessante Questo è il mondo meme Che è un momento che avvitalizza 46.5 miliardi Quindi insomma un mondo meme in crescita E troveremo al suo interno All'interno di questo progetto Quelle che sono le meme principali Dando anche dei rendimenti insomma molto interessanti Guardate qui ad esempio Troveremo Pepe, Doge, Shiba Quindi pensate in ottica bull market Dove secondo me tutto andrà a crescere Quanto ok letteralmente potremmo poi ritrovare su queste meme Quindi potrebbe essere molto molto interessante E ovviamente come vedete Qua c'è anche la sezione staking Andiamo subito a della Al momento danno un 947% Che insomma è tanto Secondo me cifra che poi andrà a diminuire Vi ricordo siamo ancora all'inizio letteralmente di questo progetto E quindi potenzialmente può risultare essere interessante Per quanto riguarda il mondo meme E bisognerà vedere se effettivamente Arriveremo letteralmente alla fine del progetto Secondo me è cosa che può assolutamente arrivare Anche perché la domanda ancora non è tanta Però attenzione perché se i meme token dovessero partire Cosa che secondo me succederà Qui la domanda potrebbe letteralmente aumentare Soprattutto anche la raccolta Che al momento è stata pari a 1.5 milioni Potrebbe di gran lunga aumentare In conseguenza anche Quello che è il prezzo poi di meme vuol Quindi io spero che questo video ti sia piaciuto Ti ricordo che se vuoi acquistare Crypto All Stars Ti lascio sotto i link in descrizione Che ho insomma il link sicuro Originale E ti ricordo che nel momento in cui tu vuoi acquistare I tuoi token non li vai a ricevere subito Ma bensì devi aspettare i listing sui DEX Oppure CHECKS Vedremo dove sarà listato letteralmente Crypto All Stars E per questo video ti ricordo di Di subito e di like Di iscriviti al canale E noi ci vediamo Presto Hasta la vista Hombre